Facevo l'illustratore, specializzato nella Seconda Guerra Mondiale. Ora scrivo a malapena il mio nome. Ho saputo quello che ti è successo. L'hanno aggredito in cinque. È vivo per miracolo. Prendi le medicine. Mi hanno quasi picchiato a morte. Senza motivo. Un passo alla volta. Ci sei, Mark. Abbraccia il dolore. Ma ho creato un mondo dove posso guarire. Che cos'è questa roba? Benvenuta a Marwen. È la mia installazione. Sei un artista? È una storia complicata. Raccontamela. Davvero vuoi saperla? Sì. Mi hanno tolto dalla testa a calci tutti i ricordi. Non è rimasto niente di quello che c'era. Ora le mie bambole raccontano la storia. Queste sono le donne di Marwen. E proteggono Mark? Siamo una cosa sola, noi. Dai cattivi. Andiamo. Munizioni! Servono munizioni! Stavi urlando che vuoi che ti servano la colazione? No, colazione! No, colazione! Le bambole di Marwen sono persone che conosci? Sì, c'è Anna. Da. Da. Julie. Sì, cavolo. Carlala. Non puoi continuare a scappare dai tuoi problemi. Roberta. Sarai presente in tribunale. Devi guardare in faccia chi ti ha picchiato. Non sono sicuro di come farlo. Il dolore è il nostro propellente. La vita che avevo mi è stata portata via. Però sono qui. Ho speranza. Ho la mia città. E ho le mie amiche. Ti copriamo le spalle. Io ce la farò. Tutto è possibile a Marwen. Si brinda, ragazze? La gente deve vedere quanto davvero è speciale Marwen. Alla vita, all'amore, alle donne di Marwen. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!